27 gennaio 2022 ancora una volta insieme buongiorno la buona giornata ai nostri fedelissimi telespettatori quanti ogni giorno poi di fatto si aggiungono la nostra informazione con lo sfoglio l'analisi di quelli che sono i principali giornali che troverete in edicola partendo con le prime pagine legate alla nostra regione detto questo ricordiamo che vi è sempre la possibilità di interagire inserire dei messaggi dei saluti dei commenti considerazioni a margine di tutto questo per farlo è sufficiente scrivere al numero 327 94 39 574 ma come diciamo sempre non sono solo perché in regia anche questa mattina diamo il buongiorno e il ringraziamento a martina beraldo che si occupa della parte tecnica partiamo con la nostra informazione in sovimpressione infatti abbiamo già la prima pagina legata al giornale messaggero veneto che oggi apre con il nodo del pronto soccorso di udine si parla di fino a 180 pazienti un terzo arrivano per casi covid poco personale spazi ridotti malati in coda all'ospedale di udine sindacati che dicono bisognava agire prima molti operatori si stanno licenziando situazione difficile legata quindi ancora una volta all'ospedale di udine andiamo ancora in centro pagina si parla di invece di mascherine episodi che si ripetono ovvero autisti e controllori che vengono aggrediti da chi si rifiuta proprio di indossare le mascherine ffp2 sulla spalla di sinistra invece si torna a parlare inevitabilmente della corsa al quirinale vediamo l'immagine con i presidenti infatti di senato e della camera fico e anche la casellati sotto si legge ieri un'altra fumata nera il quorum scende adesso i leader sono costretti a scoprire le carte sempre sotto retroscena trattativa decisiva e poi dieci opinioni la grande sfida proprio vista dalle friuli venezia giulia oggi due pagine del messaggero la 6 e la 7 con la visione un po di coloro che sono praticamente i nostri corregionali da maria giovanna elmi a massimo giacumina gianni giannola nonino la corsa al quirinale insomma vista dal friuli venezia giulia ci spostiamo per quanto riguarda invece le cronache partiamo con la spalla di destra appunto con l'inchiesta ancora una volta rispetto al decesso di lorenzo ci sono due indagati per il 18enne rimasto deceduto venerdì scorso all'interno di un'azienda lauzzacco in comune di pavia di udine in rompe in una casa si barca in una stenza distrugge i mobili momenti di paura e tensione descritti alla pagina 29 e lo scontro frontale a prada mano ieri appunto questo schianto tra due mezzi dove risultato in gravi condizioni ricoverato all'ospedale di udine un uomo di 59 anni vediamo come chiude il taglio alto per chiudere appunto terminare l'analisi della prima pagina pnr tra udine e pordenone opere per ben 50 milioni di euro e poi contratti stabili e di qualità nella regione che incentiva le imprese se ne parla alla pagina 16 allora ancora buongiorno rassegna stampa 27 gennaio passiamo subito all'analisi delle gazzettino del friuli venezia giulia si apre oggi ancora con il nodo sanità ospedali più pieni d'italia così descrivono di missioni che vanno molto a rilento il friuli venezia giulia e la regione con il maggior numero di reparti occupati mancano le cure intermedie prima appunto di andare all'ospedale se non frena la pandemia c'è il rischio sottolineano di finire in zona rossa l'intervista tondo e quei 18 voti per il quirinale non era goliardia 18 voti per mandare al quirinale l'ex governatore del friuli appunto renzo tondo che spiega un attestato di stima nei miei confronti non si è trattato di un gesto goliardico ma così un'espressione un desiderio proprio nei suoi confronti riconoscimento le scuole sono al collasso ne abbiamo parlato molto ieri se ne continua a parlare perché la regione si difende dice ha fatto quello che poteva messi i soldi per il personale per il digitale i dipartimenti di prevenzione sono operati di lavoro e un sistema al collasso con istituti presidi personale scolastico di segreteria che vengono trasformati in succursali delle aziende sanitarie a forgaria chiude la fabbrica un fulmine a ciel sereno reazioni a raffica dopo la decisione della fg group di torino di chiudere l'ex lima di forgaria nel friuli si legge un vero e proprio fulmine a ciel sereno quasi un milione il gazzettino riporta in centro pagina per sentieri e rifugi con l'immagine che integra la notizia parole d'ordine maggior sicurezza miglior accoglienza sulle terre alte ammonta quasi un milione per l'esattezza 970 mila euro la spesa messa in preventivo del club alpino italiano per questi interventi su sentieri attrezzature le vie le strutture di ricovero proprio sulle montagne della nostra regione noi andiamo con la spalla di destra l'effetto vaccino ancora tanti contagi anche in casa di riposo ma sono tutti asintomatici le persone contagiate non sviluppano malattia grave i casi sono emblematici soprattutto aiutano a inquadrare due aspetti nel scrive il gazzettino di questa ennesima fase della pandemia il ruolo della terza dose nel vaccino e la necessità sempre più sentita di un deciso cambio di passo in merito alle regole delle quali parleremo oggi vedremo che appunto il governo è vicino al cambio delle regole la pandemia ancora una volta omicron sala il 92 per cento variante delta è quasi sparita dalla nostra regione variante omicron ormai ha conquistato il friuli venezia giulia il ceppo delta responsabile della precedente ondata ormai è praticamente morto altre notizie per quanto riguarda sempre per una pagina gazzettino importanti ne abbiamo proprio sotto in chiusura di pagina nel fondo si legge scontro tra tre mezzi un'automobilista finisce in reanimazione è ricoverato in gravi condizioni l'ennesimo incidente del quale vediamo anche un'immagine proprio in centro pagina la scena dello scontro frontale all'ora di pranzo ieri martedì 25 l'uno la regionale 56 tra i comuni di udine prada mano nei pressi della rotonda paparotti erano le 12 e 30 quando per causa in corso d'accertamento si sono scontrati più mezzi all'altezza del centro commerciale ben l'impatto violentissimo una persona che viene prontamente trasferita appunto all'ospedale in gravi condizioni dal 7 febbraio codice rosso filo diretto con 27 psicologi per le vittime per ascoltare le parole proprio delle vittime di violenza il taglio alto del gazzettino ci riporta ancora tre notizie in breve folk est riparte il premio cesa prima sfida 3 a tavagnacco cabaret il papa la terra e l'ambiente mini tour in friuli per i papu calcio serie a caso atalanta all'udinese che prepara il ricorso in appello all'udinese non ha digerito la sentenza che abbiamo letto tutti insieme ieri del giudice sportivo sul caso appunto atalanta gli avvocati stanno preparando un ricorso in appello allora non ci resta che vedere come apre oggi il quotidiano il piccolo spostandoci un pochino in più a est della regione il grande risico delle colle la notte delle trattative oggi quarta votazione basteranno 505 voti ieri la terza fumata nera letta non ci sarà un presidente di destra salvini al bivio e abbiamo l'opzione casini in breve retroscena matteo e giorgia che rischiano di rompere e poi rispunta mattarella abbiamo dai sussure silenzi la sfida a distanza tra premier e l'ex dc e poi le reazioni draghi resti dov'è il coro quasi unanime almeno quello che arriva dalla nostra regione dagli elettori regionali in centropagina la triste notizia prendiamo la foto con la il volto disperato della mamma di robert ieri si sono svolti i funerali infatti a triesto a valmaura il dolore scrive nel titolo per robert il fratello il mio primo figlio avrà il tuo nome ieri fiori bianchi sui fiori sulla bara bianca di robert la grande foto che lo ritrae sorridente proprio posizionata poco sopra per l'ultimo saluto ancora parole commoventi anche del fratello dennis che abbiamo letto ora che iniziavi uscire la sera nel ti aspettavo sveglio ti scrivevo dove sei stavi arrivando eccetera insomma pone ricostruzione anche delle parole del momento dolore proprio nell'ultimo addio al giovane ma noi andiamo invece in spalla destra andiamo a vedere le cronache a trieste galleria foroviaria cgl sorpresa no a preconcetti pagina 12 viene poi approfondito e poi la cabino via spunta una mail del ministero che va a svincolare i fondi il foulard del piccolo che papà mario regalò a laura 70 anni fa abbiamo pure l'immagine con mario renzi con la figlia laura così sei librai triestini resistono ai colossi del web taglio alto del piccolo andiamo subito da prenderlo bat apre il cantiere a bagnoli la sede sarà pronta in sei mesi e bonus regionali fino a 11.500 euro alle imprese che decideranno di assumere nuovo personale diamo uno sguardo ora pronti ancora una volta buongiorno rassegna stampa all'informazione nazionale la repubblica il al titolo subito è questo biden a mosca no avete su chi è nella nato storm alza il livello di allerta e poi magnati di putin lira di america e dell'unione europea con accompagnato l'immagine di centropagina si torna con la sfida per il quirinale titolo la rosa bipartisan terzo e ultimo scritto ieri terzo scrutinio appunto nullo come abbiamo già visto oggi basteranno poco più di 500 schede andremo verso il quarto implode intanto il centrodestra forza italia lo sbando gelo con meloni e salvini che gioca da solo quel vantaggio finito in farsa poi altre notizie in breve sulle spalle andiamo però direttamente nella stampa a chiudere lo sguardo l'informazione nazionale oggi 27 gennaio 2022 giornata della memoria è per questo che mezza della prima pagina oggi in edicola è dedicata per la stampa questa grande immagine che viene pubblicata la rosa ancora le pietre d'inciampo e l'immagine con il titolo per non dimenticare quei valori che forgiano la nostra coscienza con tutte le analisi le considerazioni all'interno questo insomma quanto si occupa e come poi di fatto decide di aprire la stampa oggi in edicola abbiamo visto i principali argomenti del giorno siamo pronti sono già passati quasi 12 minuti è il momento ora di una piccola breve pausa ci prepariamo con l'approfondimento che sarà accompagnato anche dai vostri messaggi potrete per tutto il tempo inserire dei commenti delle considerazioni tra un po' ripartiremo vedremo tanti nodi ancora per quanto riguarda sanità pronto soccorso ospedali non solo scuola ed altre decisioni del governo che stanno per arrivare avremo infatti un allentamento delle norme sia per il green pass ma anche per la didattica a distanza nuove regole per le scuole probabilmente via i colori tutto ciò parleremo però di questo tra poco con il numero a vostra disposizione 327 94 39 574 tra qualche secondo sarà ancora news cappuccino e brioche allora chiudiamo le prime pagine intanto che gli amici della televisione si prendono una pausa noi ne approfittiamo io ne approfitto per ispirare un momentino rallentare la corsa e poi per aprire le app legate a quelli che sono anche le persone che ci seguono via social quindi stiamo parlando di facebook principalmente ma non solo anche su youtube abbiamo quasi un migliaio di persone che ci seguono fedelissimi che hanno già attivato la campanellina anche lì e poi saluto i collochi coloro che ci stanno scrivendo via whatsapp vedo già la florence prontissima buongiorno cara buongiorno a tutti da maniago lei mi scrive andiamo ad aprire allora l'applicazione per quanto riguarda dicevamo facebook perché anche lì ci sono le persone che ci saluta ci sostengono come tutte le mattine fa anche la nostra carissima mariana nicolici che oggi in particolare ci dona 500 stelle un grandissimo regalo grazie cara mariana buona giornata e buon lavoro francesca monte aperto che ci salite dice buongiorno per non dimenticare poi scrive monica limo e stiamo facendo le stesse cose oggi ciao monica lina ardengo buongiorno dal belgio e tutti gli altri vedo tantissime persone presenti allora abbiamo detto questo spostiamoci prepariamo nel nello sfondo quello che sarà il giornale di rientro messaggero parleremo ancora purtroppo di aggressioni perché l'avete sentito per chi almeno ci segue tutti i giorni stiamo raccontando nella cronaca proprio come pante persone addetti anche i controlli controllori stessi autisti vengono assaliti aggrediti quando magari chiedono di verificare green pass alle persone oppure quando ricordano di indossare correttamente le mascherine ffp2 oppure chiedono di indossarla anche magari nel bus non ce l'ha e vengono aggrediti ne parleremo di questo tra poco buongiorno analisa vitello buongiorno a tutti grazie vedo tanti bei messaggini oggi fedelissimi che ci stanno seguendo tra un po ripartiamo poi parleremo ancora purtroppo di ospedali ancora di difficoltà nel sistema sanitario e poi ancora di un allentamento delle misure da parte del governo ora martina vi dice roberto torniamo in diretta in televisione canale 11 riparte news cappuccino brioche ancora la buona giornata 27 gennaio 2022 in questa nuova edizione legata la nostra rassegna stampa lo sfoglio l'analisi dei quotidiani oggi ne dicola ma soprattutto anche la possibilità di interagire come tantissimi stanno facendo quindi diamo il buongiorno a voi e anche grazie per le decine e decine di messaggi whatsapp che già sono arrivati noi intanto mentre continuate proseguite nello scriverci poi ci riserviremo qualche minuto per leggere alcuni messaggini che sono arrivati andiamo e procediamo con il messaggero veneto si moltiplicano sono gli episodi in questi giorni come già abbiamo raccontato nelle precedenti trasmissioni di persone che vengono aggredite insultate quando appunto vanno a semplicemente richiedere l'utilizzo del green pass la verifica o anche di indossare delle mascherine è proprio con questo che riparte il messaggero oggi su bus autisti controllori nel titolo aggrediti da chi rifiuta la ffp2 la cisle del sindacato oggi che riporta una lettera di denuncia personale che chiede di indossare le mascherine spesso ricevono spintoni sputi e anche pugni si sono registrati in questi giorni nell'ultimo periodo la nota riporta agli attacchi verbali si sono aggiunte pure le violenze fisiche sempre cgl integra alla regione e alle aziende di trasporto abbiamo già chiesto maggior attenzione oggi appunto all'approfondimento rispetto a questo nuovo episodio non per nulla insomma piacevole rispetto alle aggressioni a chi è deputato il controllo e sta semplicemente facendo il proprio lavoro viene riassunto tutto questo per quanto riguarda anche questa tabella per viaggiare sugli autobus urbani si ricorda ed ex urbani è obbligatorio green pass ma è anche la mascherina ffp2 per tutta la durata del viaggio anche quando siamo magari semplicemente seduti e poi all'interno sono esentate si ricorda dall'indossare mascherine persone che abbiano disabilità o problemi medici ma serve comunque sempre un certificato così vanno ancora a scrivere nel dettaglio detto questo allora passiamo poco lontano un pochino più in là perché a destra infatti dello stessa pagina il nostro viaggio in città a udine si dice poche verifiche passeggeri rispettosi delle norme anti covid ispezioni che vengono fatte a campione durante la giornata anche nelle fermate problemi in periferia e invitiamo scrivono a tenere un comportamento corretto andiamo avanti si parla ancora di sanità purtroppo la nostra regione non se la cava per nulla bene anzi è una tra le ultime per quanto riguarda quelli che sono i dati legati ai decessi nord est nuovi decessi su 100.000 abitanti si parte oggi da un grafico che mostra proprio come come avviene questo aumento proprio nel nostro territorio poi il titolo con lo studio che riporta mortalità per covid in regione ci sono i dati più alti di tutto il nord est friuli venezia giulia ha un indice superiore alla media italiana poi il prof barbone che è proprio responsabile direttore della tax force regionale che va a integrare dicendo il gran numero di tamponi va a influenzare anche i conteggi questo è quello che riporta essendo virtuosi anche nell'espletare i vari test purtroppo subiamo anche il conteggio legato ai casi che continuano ad aumentare rispetto magari ad altre regioni che ne fanno di meno la giornata di ieri ha visto 4.100 casi 15 decessi salgono ancora purtroppo i ricoverati infatti abbiamo visto già poco fa anche in prima pagina la situazione difficile al pronto soccorso nelle aree mediche si registrano addirittura 489 utenti ricoverati sempre positivi al covid-19 ma abbiamo anticipato questa mattina per chi ci ha seguito già le 6.30 con l'analisi lo sfoglio delle prime pagine di come il governo si avvicina un po ad allentare la presa possiamo definirla così andare verso una modifica una rimodulazione di quelle che sono le regole attuali ormai troppo stringenti visti troppi casi di persone asintomatiche sia anche nelle scuole ma pure abbiamo legato anche a tutto ciò all'rsa e poi casi di riposo si dovrebbe cambiare utilizziamo ancora il condizionale perché per green pass e didattica distanza il governo nel titolo riportano dovrebbe snellire le regole gli studenti vaccinati dovrebbero rimanere in classe quindi non ci sarà più la chiusura della classe per tutti anche per quelli senza sintomi ma insomma chi non manifesterà sintomi dovrebbe rimanere a lezione così come rimarranno i vaccinati certificato senza scadenza poi quindi indeterminato sarà il green pass per chi ha fatto la terza dose non avrà una data di fine questo un po diciamo le principali indicazioni rispetto a dove stiamo andando ma lo conferma proprio anche il governatore della regione massimiliano fedriga non che presidente proprio della conferenza delle regioni è lui stesso massimiliano a riferirlo basta con questa burocrazia dobbiamo tornare alla normalità questo è il suo invito al governo già si sono incontrati un paio di volte a roma in occasione delle votazioni a montecitorio lo stesso presidente dice puntiamo sull'autosorveglianza tracciamo solo i positivi e poi lasciamo a casa in isolamento solo chi è ammalato chi sviluppa sintomi gli asintomatici lasciamoli al lavoro lasciamoli in classe eccetera questo è un po la linea generale rispetto alla lunga intervista che oggi potete trovare alla pagina 12 del messaggero al governatore fedriga che è d'accordo con il governo e spinge per allentare ridurre le misure e ancora le regole andiamo avanti torniamo un attimino a udine in regione ci sono infatti questi soldi sono tanti 50 milioni di fondi nazionali per appunto investire in opere proprio in città a udine ma pure a pordenone saranno finanziati i lavori già giudicati ammissibili fedriga ringraziamo il governo per averci ascoltato e quindi anche per questo aiuto economico abbiamo l'alessia rosolen oggi si parla pure di contratti stabili e di qualità la regione incentiva le aziende contributi a fondo perduto possono ricevere le aziende fino a 11.500 euro per assumere nuovo personale revoca gli inadempimenti politiche quindi attive del lavoro per stimolare imprese cooperative o professionisti ad assumere dotarsi di nuove persone quindi andare spingerli verso le nuove assunzioni budget pubblico a disposizione per l'intero 2022 è di 8,4 milioni di euro insomma nuove opportunità legate pure al lavoro poi abbiamo legato al messaggero veneto la città di udine anche oggi si ripartirà tra pochissimo con la sanità e un pronto soccorso in affanno si potrebbe veramente dire al collasso perché si si registrano fino a 180 accessi al giorno la situazione e le denunce dei sindacati con lo sciopero in programma sarà proprio oggetto della discussione che faremo tra pochissimo ora prima di andare con procedere con informazioni dalla provincia andiamo in quella di trieste vediamo insieme il quotidiano il piccolo ripartendo un po con quelle che sono le principali notizie che in parte abbiamo già visto ma spostandoci all'interno della città cerimonia al risiera come sappiamo ancora abbiamo polemiche l'arciche che protesta siamo stati esclusi l'associazione abbiamo fatto richiesta sottolineano una decisione che lascia perplessi il sindaco di piazza protocollo anti covid accessi illimitati come già era avvenuto nel 2021 questa è la risposta dello stesso primo cittadino e poi ancora giornata della memoria si parla molto di questo per quanto riguarda le celebrazioni le tappe di tutto ciò che oggi verrà fatto 27 gennaio 2022 a san sabba esempio in via alle ore 11 prima le tappe in carcere stazione ferroviaria deposizione di corone interventi e riti religiosi in diretta sia social che televisione qui abbiamo una foto scattata nello gennaio 2019 all'interno sempre della risiera poi tutti i simboli posate nelle vie di mugia le prime pietre d'inciampo oggi avremo le commemorazioni vinta proprio dall'amministrazione polidori corsa contro il tempo l'orgoglio dell'ex sindaco marzi che avviò l'iter del suo mandato quindi oggi si parla molto di questo andiamo invece con un'immagine partiamo proprio da qui ieri è stato un momento di dolore un momento molto toccante per trieste con questo abbraccio virtuale della città per la famiglia la mamma il papà il fratello in particolare di robert come vediamo nell'immagine ancora tante le persone presenti ma soprattutto tanti tanti giovani continua a brillare per chi ti voleva bene l'abbraccio della città nel giorno dell'ultimo saluto a robert esecue raccoglimento preghiera e processione per il 17enne che è stato strangolato per gelosia il sacerdote dice possiamo cacciare la violenza si fa un report un riassunto di quanto successo ieri durante appunto l'ultimo saluto ancora dennis uno dei fratelli del giovane ucciso dice il mio primo figlio porterà il nome tuo padre ancora rascovic dai tre stini accoglienza apertura solidarietà in questo tragico tragico e doloroso momento ospite di chi l'ha visto parliamo anche di liliana resinovic proseguono le indagini della donna poi a poche ore anche lei dall'ultimo saluto in forma privata al fratello di liliana in televisione il comportamento tenuto del marito non è normale e poi si cerca di ripercorrere quanto si è detto con l'analisi ancora rispetto all'indagine di lilli andiamo nella pagina accanto entriamo anche rispetto alle cronache in città trieste veloci vediamo solo titoli cabino via in comune spunta la carta che vincola i fondi esce dal cassetto una mail del ministero delle infrastrutture sarà resa nota oggi vicepresidenza e opposizioni che vanno all'attacco maggioranza è scorretta ed arrogante così vanno a denunciare sotto cosolini alla giunta fvg intervenga supporto delle sedi locali dell'inps e la sottoscrizione lanciata dai sindacati atto aziendale di asugi quasi 4000 firme che sono appunto contrarie rispetto a questo andiamo a vedere anche un'altra foto proprio nel piccolo pubblicata durante il recupero di un mezzo di un autoveicolo ieri sulle rive di trieste finito in mare cade con l'auto appunto nelle rive lungo le rive in mare di trieste deceduto un anziano l'auto è precipitata erano circa le ore 15 lui era all'interno dell'auto purtroppo è deceduto nonostante il tentativo e la ranimazione prontamente prestata sul posto polizia carabinieri vigili del fuoco ancora in corso le indagini sia la dinamica poi le cause che abbiano portato appunto a quest'auto a finire in mare ancora non è chiaro se si sia trattato di un gesto estremo oppure di un incidente chiudiamo con mugia prima di spostarci invece un pochino anche nell'isontino si legge progetto amare fvg 250 chili di rifiuti recuperati nel mare in quattro tappe pneumatici si sono trovati nei fondali bicchieri di plastica bottiglie vetri tubi nel bilancio degli interventi tra il mandracchio il parco acquatico questo è quanto è stato recuperato si parla di oltre 250 chili di rifiuti raccolti lungo la costa muggesana mosso mozzatori della scuba tortuga protagonisti anche delle operazioni come vediamo in questa immagine che sono rimasti impegnati per la ricolta di questi mondizi e secchi insomma bottiglie plastiche eccetera un po di tutto nei fondali proprio a mugia ed ora come preannunciato ci spostiamo per chiudere l'edizione del piccolo per poi tornare ovviamente nel gazzettino con tante altre notizie della nostra regione e andiamo a vedere come decide di aprire rispetto a quelle che sono le prime informazioni che arrivano dalla città di gorizia approfittando per salutare i telespettatori collegati pure da questo territorio vediamo l'immagine di mezzi ancora green pass poi abbiamo indicazioni adesivi che appunto vanno a stimolare ricordare l'obbligatorietà delle mascherine ffp2 ma il titolo ci dice questo gli autisti poco tutelati vogliamo più sicurezza come letto oggi questa mattina presto nel messaggero veneto sono tanti ancora gli insulti l'ingiure le aggressioni a coloro che vanno a fare le modifiche intervengono sindacati che chiedono più forze dell'ordine per i controlli e ziberna che dice basta eccessi ora dobbiamo tutelare loro e puntare alla sicurezza l'incendio nel complesso ater famiglie che sono rientrate negli alloggi abbiamo rassicurazioni da questo punto di vista con l'era residenziale in via sant'angela americi a monte santo è stata avviata la progettazione poi per il ripristino da dove tutto è partito rispetto alle fiamme che hanno avvolto l'edificio la dirigente sono stati bonificati abbiamo ripulito gli ambienti con speciali schiume ora si può tornare alla normalità approfittiamo per mostrare due immagini ad integrazione dell'edificio del quale abbiamo parlato e poi ancora l'intervento proprio dei vigili del fuoco quando era scattato l'allarme per le fiamme che avevano divorato la struttura opere pubbliche se ne parla ancora una volta per la ciclabile di Cormons e Grodisca che andrà a collegare il Collio a Lisonzo con un avviso pubblico quindi hanno avviato il procedimento di esproprio sono almeno 284 le particelle da espropriare mentre a Grodisca si discute ancora su dove far passare diverse centinaia di metri di pista ciclabili intanto si continua a vedere parlare della realizzazione del collegamento che unirà Cormons e Grodisca passando per Mariano ma pure per Corona vediamo alcuni scatti di queste strade bianche della variante 305 il passaggio in via Manzoni e segnaletica poi legato ai vari esproprio che dovranno essere messi in atto siamo arrivati a Monfalcone vediamo subito il volto del primo cittadino Anna Maria Cisint l'ultimo atto mentre si vota e poi il titolo sotto in grande impugnato il decreto sulla centrale a gas notifica di esproprio alle società nautiche comune che ricorre alla valutazione di impatto ambientale la contrarietà dell'iter per terreni necessari proprio al metanodotto se ne parla moltissimo oggi praticamente due pagine dedicate alla partita della riconversione dell'azienda A2A noi però andiamo oltre vediamo qualche altra notizia da Lisontino come la resa dei conti la linea gava irrita i veterani della Lega pacor tanti visitors nel nostro partito fondatore del caroccio in città evito i nuovi arrivati Tanzariello il rimane nel gruppo ma non mi ricandiderò almeno così va a definire accompagna la notizia l'immagine abbiamo la storia la casa di Pieris che resiste i treni non andremo mai via di qui inviarno tra le varie campagne una famiglia di Giordano Forchesato rischia di rimanere presto isolata dal nuovo tracciato delle ferrovie però rifiuta come abbiamo letto di andarsene di allontanarsi a mossa si torna a parlare di quello che è stato il maxi incendio di questo magazzino deposito proprio di rifiuti il robo dell'ex Bertolini niente inquinamento al suolo risultati sono incoraggianti delle analisi affidate al comune una ditta specializzata non è stata riscontrata alcuna contaminazione nonostante l'immenso rogo lo stadio del lo studio del comune per rivedere il porta a porta nei rioni differenziata al 51 per cento grado studia la nuova raccolta non decollano quindi numeri con l'isola in coda nella classifica del friuli soprattutto durante quella che la stagione estiva vista la presenza poi dei numerosi turisti i dati comunque crollano e poi la polemica l'assessore bonaldo mi sono vaccinato basta speculazioni con questo ci fermiamo solo un attimo perché siamo arrivati alla prima mezz'ora della nostra trasmissione rassegna stampa in cui appunto analizziamo velocemente quelli che sono i principali argomenti dei giornali trattati in edicola piccola pausa si diceva ma tra un po ripartiamo ancora una volta con gazzettino legato alla nostra regione altre notizie per poi proseguire con l'analisi della provincia di udine e pordenone martina che si trova in regia che approfittiamo per salutare e ringraziare ora manda qualche piccolo spot mentre noi insieme a voi ci facciamo un buon caffettino allora ci ritroviamo qui tra poco news cappuccino e brioche allora ancora tante persone che ci scrivono soprattutto legato anche a quelle che sono il quelle che sono ciao danni buongiorno cara le persone che ci scrivono via whatsapp volevo dire adesso ti saluto in diretta danni sai buongiorno da palazzolo mi chiedo se io vado dalla parrucchiera mi viene mi chiede il green pass lo presento ma lei non è vaccinata ma a me ha fatto il tampone valido o mamma aiuto a me personalmente non mi sembra giusto nei confronti di chi si è affidato alla scienza vaccinandosi vi ringrazio buon lavoro a tutti dopo lo leggo con calma lo leggo con calma perché adesso faccio un attimo difficoltà a concentrarmi voglio preparare scusatemi il gazzettino abbiamo detto sì che ripartiamo da lì eccolo qua friuli occupati ancora disagi per la sanità e ripartiremo da lì e poi cercherò di rispondere a un po di domande magari in privato perché durante la diretta faccio un po appunto mi è impegnativo dicevo che rimanengono pochi secondi per tornare in diretta in televisione dove ricordiamo stiamo distribuendo appunto la live la diretta in tv se ci seguite dal nord est e quindi dal friuli venezia giulia da una parte di veneto una buona fetta del veneto orientale almeno è possibile sintonizzarsi sul numero 11 del telecomando per assistere anche in televisione per quanto è più comodo così come tanti ci avevano chiesto e poi ancora salutiamo coloro che ci seguono invece mediante facebook molti sappiamo che appunto sono attentissimi tutte le mattine pure lì altri sul sono collegati sul canale youtube dove mediante le smart tv ci seguono salutiamo le persone come gino che oggi ci saluta invece dalla francia ma poi tutti i giorni abbiamo persone collegate dalla germania dall'australia alla daniela dal brasile tanti altri non lo ricordo tutte le mattine ma di tanto in tanto quando mi appaiono i loro messaggi whatsapp approfitto per salutarli perché dovete sapere che almeno un quarto dei telespettatori arrivano da fuori regioni da fuori nord est da fuori italia quindi sono tantissimi gli italiani che ci seguono con affetto dalle varie nazioni proprio del mondo per sapere che cosa succede dalle nostre parti con questi waltzer delle regole dei balletti legati al green pass alla dadda alle regole abbiamo letto oggi nella prima mezz'ora di come siamo vicini a una normalizzazione così come ha detto il presidente fedriga che dice dobbiamo tornare alla normalità via le regole a casa chi è malato chi ha sintomi chi è asintomatico deve proseguire al lavoro a scuola e chi è vaccinato anche nelle scuole deve rimanere in classe in presenza basta dad allora queste sono un po diciamo quello che sono gli auspici e gli inviti al governo vedremo se sarà così proprio nei prossimi giorni torniamo in diretta in televisione sul canale 11 torniamo live ancora con news e cappuccino broche torna la rassegna stampa dopo una piccola pausa ma anche al trentacinquesimo minuto della nostra trasmissione da un buongiorno a chi si è collegato da poco ma anche a coloro che ci stanno seguendo durante la replica molti messaggi mediante il numero che in sovimpressione li riceviamo anche in quella seconda fascia di trasmissione che ricordiamo va dalle 8 e 30 alle 9 e 30 quindi un buongiorno a tutti voi in questo 27 gennaio 2022 giornata molto importante come abbiamo visto ricco anche di memoria di celebrazioni per questa giornata da non dimenticare tanti messaggi ma non abbiamo il tempo ora di leggerli perché dobbiamo procedere spediti con il gazzettino del friuli venezia giulia che oggi ci riporta una fotografia davvero molto preoccupante rispetto a quelli che sono i posti letto occupati e poi quelli che sono gli utenti in attesa di avere un posto letto per essere ricoverati si legge proprio così friuli ospedali più occupati d'italia rischio zona rossa nessuna regione ai reparti così saturi se consideriamo le medicine e le rianimazioni tra le cause abbiamo una lentezza nelle dimensioni ma soprattutto come detto ieri mattina mancanza di strutture intermedie poi ancora carenza rispetto alle terapie domiciliari che non sono mai decollate questo l'abbiamo preso sempre per voce così per scrittura del gazzettino nella giornata di ieri ancora si parla e si legge proprio nelle prime righe oggi del gazzettino premessa l'obbligo nonché attuale è possibile che il sistema dei colori così come hanno chiesto all'unisono i presidenti delle regioni possa saltare definitivamente ma se questo non dovesse avvenire vi è un rischio concreto di zona rossa per il friuli venezia giulia la luce anche dei tanti ricoveri che ieri appunto il bollettino ha registrato sappiamo che omicron ormai ha suppiantato la variante delta toccando il 92 per cento dei test ieri però oltre 4000 casi di contagio 15 decessi e i ricoveri soprattutto in medicina che hanno toccato il numero di 489 degenze per questo c'è preoccupazione ma soprattutto come vedremo tra un po anche nel messaggero legato poi da quelli che sono i pochi operatori sanitari rimasti al lavoro molti sospesi per non vaccinazione altre ancora 400 che si trovano in isolamento perché contagiati lo studio virus in casa di riposo anche qui un vero e proprio boom di focolai ma il vaccino salva vite perché gran parte di questi focolai e positività sono asintomatici vuol dire che non sviluppano malattia un anno fa i decessi si contavano a centinaia da san vito a mortegliano casi identici anziani solo positivi nessuno di questo è ammalato questa è la precisazione che tende insomma a rimarcare più volte il gazzettino oggi in edicola la protesta dei direttori non tarda ad arrivare quadro nuovo regole vecchie anziani isolati ora liberateli un po come già chiesto anche il presidente della regione fedriga abbiamo regole troppo stringenti se tutti questi anziani sono asintomatici non sviluppano malattia non si vede dicono i direttori delle aziende proprio perché per i servizi per gli anziani per quale motivo devono rimanere ancora isolati come succedeva esattamente un anno fa quando non c'era la vaccinazione e quando insomma le dinamiche erano completamente diverse ad oggi assente il 39 per cento degli infermieri l'abbiamo detto un attimo fa parlando delle criticità legate agli ospedali i sindacati bussano fuori regione sono 400 sola udine nell'asuf gli infermieri e medici assenti perché rimasti contagiati seppur asintomatici nella stragrande maggioranza ma poi ancora si parla in questo caso degli oltre 120 che già sono stati sospesi 120 trasferiti in altre strutture perché hanno una certificazione che li esenta dal ricevere la vaccinazione obbligatoria si parla e si cambia ora argomento stage difesi dalle aziende da noi gli studenti sono al sicuro le imprese si è lavorato molto in passato per far collaborare i due mondi modelli vincendi alla zanussi premer marini interio santa lucia tante altre insomma continuo a difendere quelle che sono anche i momenti formativi dei ragazzi degli studenti alla luce della tragedia di lorenzo come sappiamo del 18enne deceduto travolto da una trave si continua a parlare di loro poi abbiamo l'intervista renzo tondo rispetto a una curiosità questi 18 voti che ha ricevuto per la corsa al quirinale da tondo for president così descritto tra virgolette non era una goglierdata tondo dice era un riconoscimento una stima nei miei confronti rispetto al voto che ha ricevuto proprio in queste giornate ed ora andiamo invece con altre informazioni la scuola in tilt la regione alza le mani scuola il collasso tante le classi in didattica distanza ma la rosolenne rimarca abbiamo stanziato 3 milioni di euro per il personale capisco disagi ma la partita non dipende da noi dipende dallo stato dobbiamo rivedere tutte le regole rappresentanti dei consigli d'istituto scrivono alla regione il personale in affanno genitori costretti a pagare da soli i tamponi e l'asl che non fa tracciamento ragazzi lasciati a casa non contattati dai dipartimenti di prevenzione abbiamo lo scontro vediamo un attimino un'immagine siamo alla cronaca descriviamo velocemente ieri tra i comuni di udine pradamano abbiamo avuto uno scontro tra più mezzi una persona si trova ricoverata in gravi condizioni tre veicoli coinvolti l'automobilista rimane incastrato portato in reanimazione è avvenuto ieri proprio verso le 12 e 30 nei pressi della della rotonda paparotti questo per quanto riguarda insomma che è stato che appunto si è registrato la nota riporta è stato estratto dalle lamiere dalla sua utilitaria i sanitari lo hanno stabilizzato prontamente è stato poi trasferito all'ospedale abbiamo ancora cronaca con l'episodio la tensione la paura era gogna si è barricato un 45 anni in una villetta e poi ha aggredito un militare ha devastato l'abitazione rompendo porte finestre su pellettili alla fine sono riusciti a trarlo in salvo e quindi ad arrestarlo codice rosso attivata la rete salva vittime con 27 psicologi friuli apripista ciascun professionista dotato di un cellulare dedicato alle chiamate proprio delle forze dell'ordine e anche del procura all'ex osopo la ditta propone di tagliare un grande albero ma si oppone il sindaco fontanini dice no al taglio di un cipresso in cantiere la richiesta appunto arrivava dalla ditta come vediamo legato a questo grande cipresso questo grande albero che avrebbero voluto tagliare per uscire a posizionare la gru per continuare con il cantiere i lavori ma il primo cittadino come detto si è subito opposto ha detto no al taglio dell'albero ed ora torniamo invece nel messaggero veneto abbiamo visto un po di informazioni in generale di ampio respiro legata alla nostra regione fvg abbiamo parlato di ospedali di sanità ancora di affanno rispetto ai ricoveri e al personale sanitario abbiamo visto molte cose e ora ci continuiamo a occuparci di questo andando al pronto soccorso della città dell'ospedale di udine vediamo le prime immagini ma ancora vediamo quelli che sono i totali pazienti in cura ieri per un attimo ancora abbiamo avuto oltre 81 persone in attesa di ricevere cure davvero tante quindi si legge file e attesa il pronto soccorso 180 accessi in un giorno poco personale spazi che sono ridotti l'azienda la situazione pesa su un sistema già indebolito dall'alto numero dei dipendenti che sono positivi 400 dipendenti sono a casa pauci sintomatici o addirittura senza alcun sintomo poco personale e sindacati che denunciano bisognava agire prima le strutture sanitarie sono al collasso gli operatori si stanno licenziando questo è davvero un dramma quello che sta avvenendo all'ospedale di udine abbiamo altre testimonianze non sono le uniche poco più tardi poco più in là scusate abbiamo pure la protesta che si svolgerà non più tardi domani perché andranno allo sciopero ancora nessuna intesa su mobilità incarichi non solo carenza di personale aggravata dalle sospensioni dei novax ma si parla appunto anche della questione degli incarichi delle funzioni e poi anche delle mobilità due pagine interamente dedicate proprio oggi al pronto soccorso e alle sue difficoltà continueremo a parlare ancora di udine provincia lo faremo tra un po siamo arrivati al momento di una piccola ultima pausa veloce per respirare un attimo prendere un caffè insieme a voi fare colazione e poi sarà ancora news cappuccino e brioche allora ancora buongiorno tante persone con noi collegate sia in televisione dove adesso un attimino avete visto ho lanciato un attimo di pubblicità quindi respiro un momento per oggi l'informazione e tantissime le notizie non sono per nulla rassicuranti no allora abbiamo ripartiremo con le indagini legato anche all'inchiesta di lorenzo parleremo di lui ancora una volta del 18enne deceduti in azienda venerdì pomeriggio sapete che lorenzo è stato travolto purtroppo da una trave da una putrella colpito la testa per lui non c'è stato nulla da fare quindi il tema della sicurezza è tornato in auge non che prima non se ne parlasse ma è proprio legato a questo si continua a parlare molto di aziende intanto vedremo veramente tra meno di un minuto che abbiamo un secondo indagato per il suo decesso faccio qualche saluto approfitto per salutare coloro che ci siano via whatsapp grazie alla tv ma anche coloro che sono lontani da noi che ci seguono in streaming allora saluto l'analisa per la prima volta ci scrive da mo falcone siamo in provincia di gorizia e l'analisa dice roberto buongiorno tutte le mattine mi sintonizzo con voi approfitto e rimango un po più tardi perché ho la figlia in didattica a distanza come il letto è davvero un caos rispetto alle scuole e sì è un caos abbiamo riportato tutti i dati non sono nostre affermazioni ma ci sono proprio numeri che ci riportano quelle che sono le centinaia e centinaia di classi chiuse in questo momento quando ad esempio alle elementari abbiamo solo due casi di contagio magari sintomatici o meno paucisintomatici tutta l'intera classe poi viene predisposto il tampone per tutti dal dipartimento e poi si attende l'esito e l'effetto per poter avere la riammissione alle elezioni analisa è proprio così come tu ci testimoni nel messaggio grazie per averci iscritto ma oltre ad analisa poco sotto vedo che lo stesso argomento viene trattato da piero piero che mi segue da cervignano del friuli siamo nella bassa friulana in provincia di udine piero dice roberto ti seguo finalmente nella interezza della trasmissione perché mio figlio segue le elezioni da casa quindi vedete ci sono genitori che non stanno andando al lavoro perché devono rimanere a casa con i propri figli che appunto hanno le classi chiuse oppure hanno casi di contagio all'interno delle loro aule e quindi non possono tornare in presenza allora faccio un saluto oltre a loro analisa piero poi tanti altri che continuano a scrivermi a tutti coloro che mi stanno seguendo e dicono ti seguo per tutti in 60 minuti perché sono a casa non vanno oggi al lavoro così come nelle giornate precedenti altri ci hanno scritto perché vivono questo pesante disagio allora la martina che in regia prontissima mi dice roberto 9 8 7 5 secondi e torniamo in diretta in tv dai che ripartiamo con il messaggero veneto l'ultimo spazio legato alla nostra rassegna stampa news e cappuccino imbrosci buongiorno a quanti sono sintonizzati con noi in questo 27 gennaio 2022 tanti ancora i messaggi che continuano ad arrivare quindi il ringraziamento anche a tanti come analisa da monfalcone ma anche piero da cervignano del friuli gli ultimi che ho letto in ordine cronologico che ci stanno contattando scrivendo che ci fanno sapere di essere a casa per così accompagnare stare accanto i propri figli vigilare perché loro sono in didattica a distanza quindi continuano a scriverci molti genitori che in questi giorni non vanno a lavoro perché devono rimanere forzatamente a casa con i figli minorenni un saluto e forza e coraggio a tutti voi ripartiamo ora con l'informazione non si fermano anzi proseguono le indagini dopo la morte della tragedia dopo la scomparsa di lorenzo ci sono ora due indacati riporta il messaggero veneto domani l'incarico al medico legale l'inchiesta il secondo nome arrivato dopo l'esame dei documenti sul progetto scuola lavoro resta ancora però il giallo del tutor l'analisi delle carte sequestrate nell'azienda dell'auzacco dopo l'infortunio che venerdì scorso a stroncat il diciottenne lorenzo parelli segista l'istituto salesiano bearzi ha partorito un secondo indagato però ancora top secret sul nome almeno fino a quando il primo atto investigativo non gli sarà notificato al momento non è possibile quindi conoscere chi sia sappiamo però che le indagini ancora si allargano pure con un nuovo indagato gli alleati del centro-destra alla lega il candidato sindaco va condiviso dopo l'annuncio di dreosto che ieri mattina abbiamo letto insieme sempre nello stesso quotidiano quando diceva il candidato sarà fontanini ora gli alleati dicono condivideremo insieme quello che eventualmente sarà il nome ripartiamo con la provincia andiamo a vedere solo titoli partendo dalla montagna siamo a tolmezzo cadunea teme l'elettrodotto l'indennizzo va dalla frazione le richieste della consulta siamo investiti per realizzare strade ed infrastrutture a tervisio in breve vince 50 mila euro al superenalotto ma non ritira il premio qui abbiamo il titolare nella foto che vediamo nel messaggero della ricevitoria Antonio Baglio che attende di capire chi abbia visto chi abbia vinto questi 50 mila euro che non sono stati ritirati evasione fiscale milionaria granzotto e moglie finiscono a giudizio nel mirino una serie di compraventi di quadri opere d'arte che erano stati effettuati dai due coniugi e poi la sorpresa la amara sorpresa chiude lo stabilimento della ttf a rischio 10 posti di lavoro ai dipendenti viene chiesto di trasferirsi dalla prossima settimana in piemonte o addirittura in emilia romagna tra le prime righe messaggero scrive è un fulmine a ciel sereno senza nessuna visaglia dipendenti una decina dello stabilimento storica azienda di forgaria viene chiesto loro di andare in piemonte se vogliono continuare appunto il lavoro a san daniela del friuli collinare se indebitato ci penso io gli fa svendere la casa due anni e sei mesi al badante gemono del friuli ci sono aiuti per l'agricoltura dal comune i fondi pure alle aziende locali dopo avere messi i bandi arriva quindi l'annuncio con i fondi dedicati a loro per appunto le aziende agricole eppure le associazioni ma siamo alla cronaca e ragogna in rompe in casa poi distrugge porte immobili momenti di tensione e paura per un 45enne che poi è stato arrestato è entrato con la forza in un'abitazione poi ha ferito due carabinieri uno al viso e un altro lo ha colpito con un ferro da stiro entrato senza motivo in una casa di famiglia residente in via città di boves con la forza si è chiusi in una stanza e all'interno ha distrutto tutto ciò che ha trovato 45enne come già detto che fortunatamente poi è stato fermato ed arrestato le immagini che vediamo insieme ora ci raccontano un episodio gravissimo quello che è avvenuto ieri che in parte abbiamo già accennato anche grazie al gazzettino uno scontro tra tre veicoli tra i comuni di udine e prada mano che un po così porta una persona in gravissime condizioni trasferite prontamente all'ospedale di udine leggiamo insieme il titolo il frontale sulla regionale è grave un uomo di 59 anni lo scontro tra auto furgone camion l'uomo alla guida della vettura è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo poi appunto si descrive tutto ciò che è successo cercano di ricostruire insomma la dinamica del gravissimo e violento incidente a varmo la tubotec passa di mano acquistata dalla vecchia veneta dante prima operazione della società di investimento guidata da andrea novello dicono puntiamo a creare un cluster di aziende ad alto tasso di crescita a san giovanni al natisone vediamo questi manifesti striscioni e ancora quindi sull'azienda contro la bretella no a strade inutili la rabbia di lucio bergamasco che presidente della come dall'opera si discute dall'anno 2017 e oggi non serve più vediamo allora le foto negate al volto dell'uomo e poi sotto ancora con questo basta strade inutili no alla nuova palmanova manzano più lavoro nelle famme che è legato a quanto assunto viene raccontato da san giovanni al natisone siamo nella bassa frulana andiamo a chiudere con partendo da cervignano nessun nuovo ingresso in giunta il sindaco che ridistribuisce le deleghe dopo le dimissioni abbiamo raccontato ieri mattina di maule savino affida l'istruzione a petenelle le attività economiche invece a zambon ecco qua i volti loro di savino petenelle della stessa alessia zambon che eletta con la civica il ponte gestisce pure la cultura e le pari opportunità a cervignano sempre abbia molluto la città piange e ad all'addio ad adriano bon fece il vigile del fuoco per 23 anni nella bassa frulana vediamolo pure in una storia che immagino in archivio appunto ha prestato servizio con tanto affetto ricevuto dalla popolazione andrano bon aveva 79 anni cavaliere della repubblica per meriti professionali era un vigile del fuoco ormai in pensione deceduto all'ospedale di gorizia dove era ricoverato da alcuni giorni palmanova diminuiscono i residenti pesa il prezzo delle case tellini dice i costi però sono in linea e si chiude con l'ultima pagina quella legata anche alla città di latisana vediamo subito i volti del sindaco lanfranco 7 ancora l'assessore sandro vignotto la giunta studia un'alternativa rispetto alla variante di rfi che aveva già proposto il piano dell'alta velocità è stato messo per ora in fermo ovvero in stand by per non fermare il progetto l'esecutivo si affida a un consulente esterno che analizzerà l'impatto appunto dell'opera legata sempre all'alta velocità e alla tisana san giorgio de regaggi strade binari abbiamo un bando da ben 10 milioni di euro e poi a porpetto chiudiamo con casa del pin a nuovo il cantiere entro l'anno avviato l'iter per la riqualificazione dello storico edificio saranno ricavati appartamenti ma anche degli spazi di socialità dopo queste notizie allora ci spostiamo un pochino più a ovest allora buongiorno a coloro che sono collegati con noi anche da destra tagliamento come di consueto andiamo a vedere altre informazioni che ci arrivano pure da pordenone dall'intera provincia partendo oggi da questo bronx e dal corso vittorio emmanuele arrivano le prime cinque telecamere parliamo di sicurezza a pordenone tra un anno altre 40 saranno poi distribuite si legge nell'intera parte della città la svolta dopo anni di polemiche e rapine furti irrisolti insomma sicurezza rafforzata in contrade poi nei box grazie a cinque nuove telecamere che oggi vengono annunciate proprio nella prima pagina legata al pordenone del messaggero veneto abbiamo un prof guarito in lotta però per tornare in cattedra gli arriva il green pass ma non arriva il via libera dall'azienda sanitaria va all'azienda sanitaria appunto dove in tre si occupano di 1800 pratiche ieri poi la svolta oggi le racconto la storia di quello che è successo al prof alessandro seves proprio ieri appunto quando si è recato all'asfo mancano componenti l'elettrolux ferma porcia quattro giornate di stop in azienda e poi paziente positivo la fp cisle va all'attacco sulla chirurgia della mano design industriale simple famerca premiata per la sanificazione a caffog arredo uedo fa shopping acquisita erotagliana cairola ai confini mezzi inquinanti gea ha studiato e poi scelto ma andiamo nella parte superiore della pagina seguente e si legge insieme gli ex deportati i novax non parlino di olocausto sdegno per la richiesta del presidio in piazzale ellero per il giorno della memoria persone non vaccinate contrare green pass e vaccinazione volevano approfittare di questa giornata per manifestare tutto ciò però è stato dirottato al parco non è piaciuta la concomitanza con il giorno della memoria oggi ci saranno quindi gli eventi ufficiali non ci sarà l'incrocio in piazza ellero dei mille tra la cerimonia così ufficiale del giorno della memoria e il presidio di novax si è deciso di distinguirli e quindi di così rimandare verso il parco la manifestazione dei non vaccinati andiamo ancora con medici infermieri personale sanitario ostetiche parti in casa dicono troppo pericolosi un neonato su dieci richiede assistenza oggi quando avvengono i parti su cento manovre animatorie intensive dipartimento materno infantile i primi cinque minuti fanno la differenza poi è troppo tardi insomma abbiamo una lettera aperta rispetto ancora a chi decide di partorire all'interno delle abitazioni vanno a riportare anche quelli che sono i potenziali problemi rischi che potrebbero sorgere tra le mura domestiche durante il parto si parla di piancavallo il punto della stagione è buono e roseo in meno di due mesi sfiorati i 70.000 ingressi bene per piancavallo nel 2022 regione che lancia un piano da oltre 5 milioni di euro si partirà con un hotel 1301 in la stazione poi della seggiovia tremol 2 aperto il nuovo corso delle gritte ieri comunque distribuiti tutti i numeri che fanno capire così intuire come ancora piancavallo sia vivendo un vero e proprio boom rinascita dopo molti anni fontana fredda ci sono controlli sulle strade dalle multe in tre mesi hanno incassato 27 mila euro l'emergenza covid non frena l'indisciplina di chi guida grazie a poi anche all'impegno dei vigili trattandosi anche in encomi porcia anagrafe si cambia gli appuntamenti vengono prenotati online mentre a coordenons abbiamo l'ex asilo al comune la minoranza che critica sull'opposizione ci spostiamo nel comune di sacile granzotto e la moglie finiscono a giudizio per una evasione fiscale milionaria critico d'arte che ha organizzato quasi 500 mostre nei musei di tutto il mondo lui si è difeso dicendo battaglia per l'onore sono pronto ad arrivare fino a strasburgo sotto in breve campieri palazzo ragazzoni stato ultimato l'ingresso ora non ci saranno più le barriere vediamo pure uno scatto legato nuovo ingresso anche a favore delle persone disabili dino l'ultimo fornaio rimasto ad aviano mestiere di sacrifici ma da soddisfazioni oggi la storia raccontata nel messaggero della famiglia suppressa che gestisce ormai dal 2010 il panificio che si trova in via veneto abbiamo pure lo scatto con roberto dino suppressa insieme alla sua famiglia sempre ad aviano a pasiano invece c'è un via libera si parla del via libera infatti al progetto per rifare il tetto della piscina cantiere in estate la riapertura potrebbe arrivare verso settembre procede quindi l'azione legale per individuare poi le responsabilità di quanto è successo ma l'annuncio più importante che oggi prendiamo è il rifacimento del tetto che dovrebbe ripartire a breve poi dovrebbe essere pronto sempre nel mese di settembre 2022 come già anche letto all'interno andiamo invece ancora ad azzano decimo sabato la presentazione di guin fd rimane schiratto ancora con piccini presa di posizione del partito della meloni dopo l'ufficializzazione che abbiamo appreso ieri mattina della candidatura di bortolus quindi enrico guin comincia la corsa al municipio candidato del pd di cui espressione alzano insieme la civica nata nella esperienza sano sì movimento di cui nel resto faceva parte il sindaco putto vediamo i loro volti massimo piccini angelo bortolus enrico guin quindi per quanto riguarda ancora le dinamiche e la politica sempre ad azzano decimo andiamo verso l'ulchiusura sono le ultime due facciate del giornale a san vito al tagliamento cronospan distanze immutate tra favorevoli e contrarie al piano la seconda inchiesta pubblica di ieri non ha portato alcun cambiamento l'azienda ha ulteriormente modificato il progetto ma non è bastato non è stato sufficiente per promuoverlo legato quindi a cronospan vediamo un attimino due scatti rispetto all'incontro pubblico avvenuto ieri gli interventi su questa inchiesta pubblica sull'ampiamento della cronospan sempre nel comune di san vito al tagliamento si chiude con spilimbergo servizio a sostegno di imprese in campo culturale e creativo sportello in corte europa attenzione particolare riservata al settore del mosaico annunciato poi il rinnovo della convenzione con il polo tecnologico pure di udine e allora con questo noi abbiamo concluso siamo arrivati in fondo anche oggi 27 gennaio 2022 si chiude qui la nostra consueta rasegna stampa con centinaia di messaggi anche oggi che sono arrivati mediante whatsapp grazie per i vostri ancora messaggi e commenti e considerazioni salutiamo ringraziamo martina beraldo martina si è occupata della parte tecnica e si trova in regia salutiamo tutti ricordando la possibilità di seguirci in replica alle otto e mezza per chi non fosse collegato ovviamente in quella fascia e poi tutte le mattine domani saremo qui con la colazione il caffè in vostra compagnia alle sei e mezza del mattino in rigorosa diretta buona giornata grazie a tutti